cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago benvenuti al meteo anticiclone protagonista ancora sole e caldo ma con la stabilità atmosferica si aggrava la siccità e aumenta lo smog il dettaglio di giovedì 16 febbraio sul veneto di mattina possibili foschie o nebbie sparse in pianura ma anche in alcune valli prealpine localmente potranno essere anche fitte cielo da sereno a poco nuvoloso invece altrove temperature sostanzialmente stazionarie minime tra meno uno e un grado massime tra 10 e 12 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso su costa e pianura pordenonese saranno possibili locali banchi di nebbia cielo più sereno invece sui restanti settori temperature minime tra lo 0 e 5 gradi massime intorno agli 11 13 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove avremo ben poche novità sarà infatti soleggiato con nubi alte in transito e locale formazione di foschie specie dopo il tramonto temperature minime intorno a meno uno un grado massime in sui 13 15 gradi dal meteo di antena 3 per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago grazie a tutti grazie a tutti